Uomini! Sono gli uomini! Donne! Ancora! Tutti insieme con le mani! Vado qui l'ho in centro! Vado, vado, vado! E signori, questa canzone parla di quello che sta succedendo adesso in Italia. Se dico una cosa vera, tutti insieme! Oh! Ascoltate! Le voci a rovinarvi, ma siamo nell'unione! E da sto! Smetta un po', io ho un ballerino che deve venire con me. Stefano! Stefano, vieni qua! Scusate, io ho studiato con lui. Fate un applauso a Stefano, che è un eroe di questa splendida serata. Vieni qua, vieni qua! Ascoltate, dammi un bacetto Stefano. Ok, siamo in diretta, eh? Mi raccomando. Fai vedere come solle resti la chitarra. Fai vedere come solle resti la chitarra. Questo è un getto di bello. Ci siamo! Vai! Tre, due, uno, la ripetiamo. La ripetiamo, lo so che questa la conosci, vedi? Prestiamo un applauso, vai! Ancora! Salto con lui, eh! Tutti in piedi, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, stai, va! Contra di ciao! Salto, ciao, ciao! Ciao, ciao! E un eroe, potete sedervi? La raccolta, la pezzone. Gli euro già nominati, ma siamo nell'unione, e intanto c'è chi non arriva alla fine del mese. Conoscete qualcuno che in Italia non arriva alla fine del mese? Ho visto il nonno che è a ruba un po' di pane, ma nel domani che fai, campa tu con l'avvenzione. Conoscete i nonni che non escono a campare con l'avvenzione? E poi c'è il nucleare, la privatizzazione, per non dimenticare l'inimo, un vincesto, un squalore. C'è il problema dei rifiuti nel sud Italia, però, ma la cosa più bella è che a tele e giornale mi sanno solo di me se un ministro va a puttare. Vrì, vrì, vorrei verà, ma fa a ton le ori qui a te. Vrì, 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 è meglio, che ci ci, su. Vrì, 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 ma mamma, voi, le. Vrì, 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 è meglio, che ci ci, su. Su le mani, prende la patoria! Voi, stiamelo, stiamelo! I giovani! I giovani! E ho visto anche un bambino, l'ucare non lo è pare, e io ho detto, ma che fai? Almeno lui c'è la pensione! Guardi ragazzi, come lui e come me, non c'è la pensione! Però, ma la cosa più bella, le cantine, le giornali, mi sanno solo dire se, un ministro va a buca! Ridi, 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 che è la mamma, tu, ti, 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 ti! Ridi, ridi, che è meglio che ci ridi su! Ridi, ridi, che è la mamma, tu, ti, ti, ti! Ridi, ridi, che è meglio che ci ridi su! Sì, sulle mani, vai schierola, sulle mani, vai schierola! Vai, 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 vai!